Questa è Quasiradio.it E siamo arrivati fino all'agriturismo La Ginestra e siamo qui con Pino Pino grazie di averci ospitato Grazie a voi E raccontaci un po' qual è la filosofia di questo posto Da oltre 20 anni gestiamo questo splendido agriturismo insieme alla mia famiglia E ci troviamo a Cerce Maggiore, un ridente paesino alle porte di Campobasso Ci troviamo nell'orto L'orto è una parte importante del nostro agriturismo Tutte le mattine per fare una passeggiata defaticante Secondo me è un consiglio che do anche ai clienti Di farlo qui in mezzo a questo bello orto e frutteto Qui raccogliamo i frutti che con amore e passione portiamo a tavola Sia la mattina che la sera Tutto ciò che portiamo a tavola per soddisfare le esigenze culinarie dei nostri clienti Provengono dalla nostra azienda Chi è però l'artefice di tutto questo? Chi è che fa da mangiare? Qui bisogna dare atto che l'artefice di tutto ciò è mamma Mamma, la signora Maria, Francesca per le amiche E' lei che si occupa di tutto Innanzitutto a lei è venuta l'idea di aprire questo agriturismo La mattina mungiamo ancora le mucche a mano E' uno svago per la vista e anche per le mani Perché i bambini che frequentano la nostra azienda Vedere mungere le mucche a mano è un'attività bellissima Produce tutto lei, dalla A alla Z La pasta fresca viene fatta al momento davanti ai clienti E poi c'è anche il papà che accompagna il tutto con i suoi splendidi arrosti Quali sono i piatti che vengono meglio a tua mamma? Non c'è un piatto in particolare che può rappresentare sia la nostra azienda agrituristica Che l'intero territorio molisano Ma un piatto tipico per cui è gettonatissimo e ce lo chiedono in tanti E' pizza e minestra In dialetto pizza e minestre Pizza e minestre non è altro che E' un piatto stagionale Perché la base è o la scarola o la verza Che cambia in base alla stagionalità Viene sbollentata e fatta poi con delle patate lesse e pizza di mais sbriciolata E' un piatto autentico, verace, vegano e vegetariano Che accontenta tutti La maglietta che ora Pino ci spiegherà cosa vuol dire questa maglietta Allora io sono appassionato di questo lavoro e dell'intero Molise Che secondo me è una terra che deve dare ancora tanto ai turisti e a chi la vuole frequentare Allora ho realizzato questa maglietta I love Molise I, scritto proprio come si legge Perché è un Molise che vuole internazionalizzarsi ma ancora gli manca quel tocco di... Non lo so come definirlo Love perché le uova Da dire che nel dialetto cercese Un uovo è ov Apriamo la o Ov sono più uova E qui in questo modo riusciamo a ricavare la parola amore I love Molise Con il caciocavallo e la salsiccia che rappresentano proprio la gastronomia nostra molisana Grazie Pino, che voglio dire Ora andremo a sentire anche i piatti perché un conto è parlarne, un conto è sentirli Perché noi saremo molto onorati di essere qui a mangiare Perfetto, ho preparato già un bel tavolo per voi dove farò una selezione di tutta la gastronomia che può rappresentare la nostra regione e la nostra azienda Bene, io ti ringrazio Pino Grazie a voi Andiamo a mangiare ora Ok, ti aspetto Grazie a voi